bentornati su soluzioni pc oggi andremo a vedere come visualizzare la tastiera virtuale e lasciare l'icona sempre pronta sulla barra delle applicazioni in modo tale da avercela sempre a portata di mano qualora ci dovesse servire per prima cosa andiamo sulla barra di windows e clicchiamo con il tasto destro andiamo su impostazioni della barra e qui tra le icone della barra delle applicazioni avremo tastiera virtuale di standard quando non è collegata alcuna tastiera compare il tasto tastiera virtuale però qualora avessimo o un tasto che non funziona o qualsiasi altro problema con la tastiera ci può essere comodo averlo sempre a portata quindi per cambiare questa opzione andiamo a selezionare sempre ed ecco che in basso vicino all'orario comparirà il tasto della tastiera virtuale che noi premendolo dal basso come su qualsiasi smartphone comparirà la nostra tastiera e noi potremo digitare e adesso vi faccio vedere come andiamo per esempio a creare una nuova cartella e andiamo a rinominarla con la nostra tastiera virtuale possiamo cancellare quello che c'è scritto e immettere cliccando con il mouse un altro nome in alto abbiamo facilmente anche l'aiuto predittivo delle parole in modo tale da non doverle digitare tutte uguale come su qualsiasi smartphone attuale da questo tasto abbiamo anche la possibilità di averla portatile quindi non più agganciata in basso sullo schermo ma di averla più piccola e poterla spostare noi come vogliamo poi nelle opzioni possiamo cambiare un sacco di altre cose ma queste poi non sono molto importanti una volta chiusa rimarrà comunque sempre in basso il pulsantino per poterla richiamare spero che questo video vi sia stato utile lasciate un like se vi ho risolto il problema iscrivetevi al canale per altre soluzioni pc e lasciate un commento se avete qualche dubbio o qualche domanda da farmi io vi saluto e ci vediamo in un prossimo video ciao